Le fiamme gialle scoprono 6 cantieri dili in nero su 7. Un quadro desolante, quello del lavoro nero che in certi settori economici produttivi è dilagante. Le fiamme gialle della Compagnia di Augusta hanno effettuato una specifica attività di monitoraggio nel settore delle costruzioni dili, particolarmente incline alla presenza di manodopera irregolare e spesso caratterizzato dall'assenza di qualsivoglia sicurezza, anche contrattuale per i lavoratori. Nel quadro di una più ampia intensificazione degli interventi finalizzata alla repressione del sommesso da lavoro nero e dello sfruttamento della manodopera irregolare e o in nero, i finanziari megaresi hanno effettuato un accesso ispettivo in 7 cantieri all'interno dei quali veniva riscontrata complessivamente la presenza di 10 lavoratori completamente in nero. Ulteriori approfondimenti chiederanno la regolarità delle ulteriori posizioni rinvenute sui cantieri. Uno di questi è risultato di essere peraltro percettore di indennità e disoccupazione. Le imprese sottoposte a controllo e non in regola sono state immediatamente diffinate alla regolarizzazione della posizione lavorativa del personale intento a prestare la propria attività lavorativa all'atto dell'accesso che dovrà sin da subito essere assunto per un periodo non inferiore a tre mesi. Nei confronti delle predette è stata inoltre proposta la sospensione dell'attività all'ispettorato del lavoro e contestata la sanzione amministrativa che va da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore regolare che non abbia superato i 30 giorni di lavoro effettivo. Analoghi controlli effettuati nei confronti di ulteriori imprese operanti anche in altri settori commerciali hanno già consentito ai militari augustani da inizio anno di riscontrare la presenza di ulteriori 12 lavoratori in nero. Le moderne attività testimoniano l'incessante impegno del corpo nella tutela dei lavoratori a contrasto del lavoro regolare che altera il regolare funzionamento dell'economia imprenditoriale e della corretta concorrenza sul mercato.